Un saluto da Gianconora a tutti gli amici di iBetSocial. 9 luglio 2006, campioni del mondo. Con la mente già andiamo a quella notte dove vediamo la partita, come festeggiamo il trionfo degli azzurri. 15 anni dopo sfidiamo l'Inghilterra per il titolo di campioni d'Europa. Non è un editoriale celebrativo, è un editoriale più riflessivo, una comparazione tra le due squadre. Credo onestamente che la squadra del 2006 fosse più forte, volendo anche molto più forte di quella del 2021. Non a caso quella del 2006 vinse un campionato del mondo, quella del 2021 gioca per diventare il campione d'Europa. Le individualità del 2006 non le vedo nel 2021, ma lasciatemi anche dire però che c'è un gruppo splendido e un gruppo che può salire sul tetto d'Europa. Forza Italia!